oggi in questo mio primo giorno a san martino di castrozza leggera camminata dislivello solo di 200 metri perché al meteo oggi come tutta settimana non dovrebbe essere uno dei migliori già comincia più vicina adesso sul partito da san martino di castrozza lungo il sentiero 350 e mi sto dirigendo verso il lago di calaita per fare la sosta al pranzo la è lunga ma il dislivello è pochissimo e anche se piove quindi si cammina su una strada dove ci passano le jeep senza nessun problema purtroppo adesso il tempo è proprio un peggioramento però giusto per godersi il panorama e cominciare a conoscere un po la zona come camminata ci sta dai tutto sommato il posto comunque bellissimo sono nel pieno bosco tantissimi alberi abbattuti vediamo se si riesce a tirar fuori qualcosa di buono comunque da questa camminata godete lui il video ciao 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti